ciao a tutti oggi prepareremo il polipo con patate il tempo di preparazione della ricetta è di circa 50 minuti gli ingredienti sono polipo prezzemolo acqua patate vino bianco succo di limone olio aglio sale pepe e un'altra dose di prezzemolo diamo il via alla ricetta iniziamo mettendo nel boccale l'aglio e il prezzemolo e andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 7 andiamo a riunire sul fondo andiamo ad aggiungere il succo di limone e l'olio e andiamo ad amalgamare il tutto per 15 secondi a velocità 4 il nostro sughetto è pronto andiamo a metterlo da parte senza lavare il boccale andiamo a mettere l'acqua il vino l'aglio il prezzemolo e il polipo andiamo a posizionare il varoma nel quale andremo a riporre le patate chiediamo il coperchio senza il misurino andiamo a mettere le patate mettiamo il sale e un po' di pepe chiudiamo il coperchio e andiamo a cuocere per 40 minuti temperatura varoma anti-orario velocità soft le nostre patate sono pronte e anche il nostro polipo è pronto andiamo a impiattare polipo con patate grazie e alla prossima ricetta grazie